Si rifrae dall'Ala Settimio Mollo con Rocciamelone, uno degli outsider. Si rifrae dall'Ala Lorenzo Bedana con Roxanne Va. Ampari di Elvis Vestichelli per Roxette Griff, l'errore di Rexiglia. Ranunco l'oggetto che prova a spondare su Renda Desi. Tommaso Di Lorenzo dice no per il comando, insiste Pippo che passa. Intanto la squalipica per Rexiglia in piegata. Ranunco l'oggetto scavalcato a Renda Desi, due nettamente avvantaggiati sul resto del plotone. Renda Desi ha ancora la corda di vantaggio sul rivale costretto a spendere per poter passare. Si esce dalla piegata, i due in vibrante testa a testa. Pippo decide che forse è ora di calmarsi un attimo perché Tommaso Di Lorenzo al comando con Renda Desi. La strada non gliela concede. 28.4 il quarto iniziale ad intervallo. In terza posizione Roxanne Va, poi Rebillon, Roxette Griff, runner di Casei. Più indietro Rocciamelone. Intanto Correnti sulla seconda e penultima piegata. Passa in terza posizione Rebillon, può aver speso Ranunco l'oggetto, ha speso sicuramente la leader che ha rimpiatato comunque nella seconda frazione. 1.004 comunque i primi otto, alla media di 1.15.5, 32 netti il secondo quarto. Renda Desi completa il giro in 1.15.7 nella sua scia Roxanne Va in fuori Rebillon. Qui si continua a spendere, chi in testa, chi a largo. In quarta posizione Roxette Griff su runner di Casei. Vedremo se saranno gli attendisti ad avere ragione. Per ora è Renda Desi che sta provando a fare ulteriore selezione. Entra in vantaggio all'ingresso in dirittura. Roxanne Va e Rebillon in linea in seconda posizione. 31.00 per la terza frazione con Renda Desi avanti a Roxanne Va che si avvicina in progressione decisamente più fresca. La giumenta di Besana si dipende da denti stretti ancora. Tommaso Di Lorenzo, i due invibranti testa a testa. Probabilmente Roxanne Va pizzica l'avversario proprio nei pressi del traguardo. La lotta per il quinto posto nella classifica vittoria fra Tommaso Di Lorenzo e Lorenzo Besana diventa lotta anche in questo Memorial Ferruccio-Pedrazzani. Con le battute finali che sembrano privilegiare sia pur di un bappo. Roxanne Va su Renda Desi. Foto per stabilire il vincitore. Per stabilire chi scrive il proprio nome. Nell'albo d'oro del Memorial Ferruccio-Pedrazzani anche se l'impressione sia che Lorenzo Besana l'abbia spuntata di un soffio su Tommaso Di Lorenzo. In terza runner di Casei. In quarta Rebillon. In quinta Roxanne Griff.